La prima piatta è dedicata al gran appuntamento sportivo di mondiale La prima piatta è dedicata a questa settimana che viene a Cortina Con i nomi ed ucci convoche a questa competizione sportiva La sportiva neozelandesa, ma degna in Cazè da Soraga, è stata premiera dall'amministrazione Due atleti di Paslong da Moena puntavìa per la Finlandia Sempre tra l'attualità, l'è una piatta è entrata con i pensieri del decante Gardena sulla fazione che ha il coronavirus della vita religiosa L'esperto bancario ha accettato l'inciario di Mattarella Il consigliere la dinge per la pubblicazione ai un bocci di Soraga e Cianacei E pensare sulla disposizione che non viene osservata E la neve senza corte dal Comune General Rispetto per le regole per separare dal virus Sostegno alle associazioni Ed è da mente alla gente in difficoltà La sessione forestale di disvalivas comuns di fascia Metto all'ustre la situazione del bosco Con le piante scrodette a sa moda torsù E troesare in curare E sottite velc curiosità e incontra la besties L'Unione dell'Ade in San Signal Neff City Internet E le sondesche i trasprozze A San Giang e a Ciampedell Le stat chiamate le contrade del Comune Soddisfazione della scuola di fascia per 6 studenti scientifici Una proponetta di risoluzione è stata presentata con 6 provinciali Questa settimana cucinando i dati del chanton della parola di Fabio Chiocchetti San Giambosco è stato festeggiato la celebrazione sparocchiali Savic tra i scomensativi per festeggiare il tempo più matto dell'anno Amo il chanton del retrato da Endoiner Sulla piattas de Gardena ha cognosso un vita e l'urier del zoen d'Aortisei Che stesse del Messico Quella la situazione di piccoli comuni del Veneto E in particolare del decol Ne conta l'unvolt Paolo Frena Della piattas de Sport Ven dat cont della gare sedda sulla giaccia Di bie risultati di atlec de Schidamont Della edizione speziella della gare sedda internazionale Con i risultati di Fasin Del campionato di hockey ed i risultati della squadra di Zoen E amò i sportivi della Brea del Coppa del Mondo e Coppa Europa Sulla Ux di Ladins ogni vender potete trovare la neve seduta alla Ladinia Per info e abonamenti potete vedere a usare alla redazione di Fasin Sulla Stradona Senjan Telefon 042 764545 Mail Fascia Schnecola Laux.it Elž fue interladin Le alaleta de la botteigas Des fu esdeduta la Valedes E podete trovare la neve Senta online sul sit Laux.it